Stefano Bonaccini vince a Piacenza, Melli Schlein trionfa a livello nazionale. Dopo l'esito delle primarie, il PD rischia una spaccatura? No, tutt'oggi assolutamente no, ci siamo dati le regole noi al nostro interno. Sapevamo che poteva vincere naturalmente uno l'altro, la vittoria di Elia era sicuramente più una sorpresa, cosa che è effettivamente, però stiamo alle regole, assolutamente cerchiamo di aiutarla perché possa fare al meglio. Assolutamente no, non credo che il partito rischia una spaccatura. Ti posso dire la mia sull'esito delle primarie, sono veramente contento, onestamente sono felice della partecipazione, ha vinto la partecipazione a queste primarie, oltre un milione di persone in Italia hanno partecipato. Io trovo un po' singolare, ma è il meccanismo delle primarie che chi, e vale per qualsiasi tipo di associazione, partiti o non, che chi non appartiene all'organizzazione possa permettersi di votare nella fattispecie del segretario. Questo però è quello che il PD ha messo a disposizione, che ha un vantaggio perché riesce a coinvolgere attorno a sé persone che non sono iscritte al partito, però al limite di magari far votare persone che non conoscono bene le dinamiche di partito e neppure le persone, ma soltanto sull'onda magari dell'emotività del momento. E quali sono le ripercussioni sul contesto locale? Nella nostra città, infatti, la segreteria del partito e la maggioranza in consiglio comunale non vedono la presenza di esponenti vicini a Schlein. Gli eletti legati alla neosegretaria, ovvero Boris Infantino e Matteo Anelli, costituiscono il gruppo di Piacenza Coraggiosa, alleato ma distinto da quello del PD. Nei corridoi si è già aperto il dibattito, con l'ipotesi, per adesso in fase embrionale, che i due esponenti possano aderire alle truppe DEM. Fare una previsione adesso diventa un po' difficile, si può presumere che ci saranno momenti di confronto a livello di partito per definire meglio l'assetto della segreteria, penso che questo sarà inevitabile a fronte della vittoria di Elli. La partecipazione a queste primarie ha evidenziato che il popolo del PD è vivo, presente, vuole delle cose, e noi faremo da parte nostra, come componenti del PD, tutto quello che è possibile. Nella giunta Tarasconi, invece, l'unica rappresentante della neosegretaria Schlein è Serena Groppelli, assessore all'ambiente. Insomma, il nuovo assetto del PD nazionale, più populista e spostato a sinistra, secondo gli osservatori, potrebbe inevitabilmente riflettersi anche sugli equilibri politici della nostra città.